Ciao Michele, hai avuto fiducia in noi? Ecco qua il risultato finale CarTablet dedicato a Volkswagen Questo copre il modello Volkswagen Golf 5, Golf 6, Passat Skoda, Seat Un prodotto eccezionale, 9 pollici, Android 10, 4GB di RAM, ROM 64GB Abbiamo anche la gestione vocale Apri la radio Stazione precedente Qui abbiamo tutti i comandi Vai alla prossima stazione Torna alla stazione precedente Attiva la navigazione In questo caso sta aprendo il navigatore offline Fai partire la musica Traccia successiva È passata una persona Si sono attivati in automatico i sensori di parcheggio Aumentiamo il volume Comandi al volante Pausa musica È andato in pausa Continua a suonare Continua a suonare Abbassiamo un po' il volume Perché se è troppo alto Qui abbiamo tutto l'elenco Poi questa lista Una volta che la siete imparata La potete togliere Apri film Torna alla pagina Iniziale Chiudi lo schermo Accendi lo schermo Questa è solo una piccola lista Di tutti i comandi vocali Che potete dare Comunque adesso andiamo avanti Alla dimostrazione Qui andiamo su Navigatore offline Usciamo Recupero comandi al volante Gestione aria condizionata Abbiamo le informazioni visualizzate sul display Abbiamo visto prima la gestione audio e video tramite la USB Facciamo rivedere Qui abbiamo tutta la musica con la gestione playlist Torniamo indietro Andiamo a vedere film Ecco qui Torniamo indietro Ovviamente i video bloccati in movimento DSP Chrome Google Viale Palmiro Togliatti 600 Avete visto che esecuzione Che velocità Impostazioni veicolo Check Aviamo la portiera Michele Spero che tu sia contento da questo video Sport 4K Sport 4K Che dire Grazie Michele per la fiducia avuta in noi Un saluto a tutti quanti Ci vediamo nel pomeriggio Ci sentiamo con video Per altre soluzioni Grazie mille